La democrazia si regge sulle regole e le regole vanno rispettate altrimenti è il caos e nel caos non c'è democrazia. Ecco perché è importante la certezza della pena, una battaglia su cui anche oggi noi di Rete Veneta torniamo con forza ripartendo dall'ultimo caso di criminalità e degrado a Vicenza. Un nostro telespettatore con un'intervista in esclusiva ci aveva raccontato l'aggressione subita in via Gorizia alle nove e mezza di sera. Avevo il telefono in mano, si avvicina un tunisino suppongo e tentando di rubarmelo io l'ho agito, ha tirato fuori il cortello e mi ha aggredito. La coltellata come viene sferrata? È stata sferrata in questa maniera. Quindi di punta? Di punta. Poteva essere mortale, letale? Se invece di prendermi il cranio mi prendeva un punto molle sicuramente. Un'aggressione pericolosissima per cui avevamo portato questo cittadino dal sindaco Francesco Rucco. Lei ha denunciato? No, non l'ho denunciato. Perché? Perché sono andato a casa, mi sono disinfettato, mi sono tra virgolette le catole ferite perché comunque penso che ormai sia inutile. Questa è una situazione molto grave, un cittadino che dice non denuncio perché penso che ormai sia inutile. Purtroppo è frequente e purtroppo appunto è questo, quando vedono che un arrestato viene con tutto lo sforzo che fanno le forze dell'ordine, rimesso in libertà perché c'è un cavillo giuridico che lo permette, evidentemente c'è anche una lontananza da parte del cittadino rispetto al nostro ordinamento giuridico che è ormai inadeguato rispetto ai tempi. Bene, oggi ripartiamo da qui e facciamo un ulteriore passo avanti. Torniamo dal sindaco di Vicenza e gli proponiamo di incontrare i deputati e i senatori Vicentini e Veneti per portare in Parlamento l'impegno legislativo per la certezza della pena. Utilizziamo il canale di Rete Veneta per lanciare un appello ai nostri parlamentari Vicentini, quello di farsi portatori giù a Roma di una proposta di legge che possa dare ai sindaci la possibilità di intervenire in maniera efficace perché oggi ci inventiamo le ordinanze di poter intervenire e contrastare il fenomeno sia dello spaccio che del consumo di droga e dall'altra quella di proporre una proposta di legge affinché le norme siano più stringenti e garantiscano che chi viene arrestato per spaccio o per reati simili debba scontare effettivamente la pena senza alcuna premialità. Bene, l'appello ai parlamentari è lanciato. La battaglia per la certezza della pena chiesta dai cittadini non finisce qui ma continua.